Hanno lottato per anni per ottenere la stabilizzazione del contratto ottenuto nel 2007. Dal prossimo 15 settembre però, i 148 lavoratori del call center Omnia Network di Bitrito rischiano licenziamento. L'azienda infatti ha perso il secondo appalto IMSS da 98 milioni di euro per il servizio di sportello virtuale aggiudicato alla Transcom. Sostenuti dai sindacati SLC, CGL, Wilcom, Wil, CISLE, UGL e Telecomunicazioni hanno manifestato davanti alla prefettura di Bari. Non avendo diritto agli ammortizzatori sociali chiedono la mobilità in deroga perché Transcom, già disponibile a farlo, possa assorbirli nel proprio organico. Chiediamo sicuramente la possibilità di avere una prospettiva lavorativa. Chiediamo che seguano la commessa. Come sappiamo tutti, questa commessa è stata vinta attraverso un bando pubblico, da Transcom e da Vinciant. Queste due aziende hanno dichiarato di voler assumere tutti i lavoratori sia su Roma che su Bari di Omnia Network. Fare in modo che questi lavoratori siano liberati da questo stato di ostaggio da Omnia Network. Oggi infatti c'è l'incontro al Ministero del Sviluppo Economico con le segreterie nazionali dove si chiede proprio attraverso un gesto di responsabilità ad Omnia di mettere in mobilità questi lavoratori in modo da facilitare il passaggio e quindi il traghettamento nell'altra società da parte dei lavoratori. Che cosa vi aspettate da questa manifestazione di protesta? Noi ci aspettiamo innanzitutto di essere considerati a livello di qualificazione professionale perché avendo lavorato per sei anni per una commessa di questa importanza ci aspettiamo che quello che abbiamo costruito in sei anni venga rispettato.